Sì, la prima forza politica del Paese, un grande lavoro sul territorio che è riconosciuto, un grande lavoro nelle amministrazioni in cui stiamo rimettendo in piedi i disastri creati dalle precedenti amministrazioni, quindi siamo contenti che i cittadini non solo siano convinti che vada cambiata radicalmente la modalità di fare politica, ma che ci considerino una forza credibile per governare questo Paese. E adesso quali scenari rispettate? Vediamo, in queste ore si stanno vedendo ancora i risultati, pare che il Movimento 5 Stelle alla Camera avrà 230 seggi e questo è un grande risultato perché significa il 37% in termini percentuali di Parlamento, quindi aspettiamo di vedere che cosa accade e poi proseguiamo questo cammino per il governo del Paese.